buongiorno a tutti e ben ritrovati carissimi telespettatori di fano tv sul canale 17 c'è la rassegna stampa occhio ai giornali oggi il 17 domina perché oggi è anche venerdì 17 e dunque ci apprestiamo a vivere questo nuovo giorno partendo proprio con l'informazione locale ovvero i giornali e tra poco vedremo i titoli delle notizie più importanti di oggi come sempre però diamo uno sguardo al santo di oggi perché coloro che ci hanno preceduto e hanno fatto del bene vanno ricordati come santa elisabetta d'ungheria una santa nata nel 1207 in ungheria appunto e viene considerata una delle figure femminili più significative della chiesa cattolica muore a soli 24 anni nella notte tra i 16 e il 17 novembre del 1231 il sole sorto alle 7 05 e tramonterà alle 16 e 40 il tempo lo vedete già con la grafica della protezione civile delle marche sul sito della regione marche per oggi avremo cielo parzialmente nuvoloso con nuvole basse non ci saranno precipitazioni le temperature sono in lieve diminuzione quelle minime le massime invece in lieve aumento per domani sabato 18 ancora cielo sereno poco nuvoloso con pioggia nella prima parte nella mattinata dove sono possibili anche piovaschi o brevi rovesci le temperature in diminuzione domenica il tempo è ancora un po così così ci sono un po di nuvole il cielo sarà parzialmente nuvoloso aumenterà la nuvolosità nel corso di domenica sera le minime sono in diminuzione i venti continueranno a soffiare e in serata diventeranno settentrionali e rafforzeranno fino a moderati o tesi lungo la costa la prossima settimana avremo condizioni di tempo stabile con temperature in graduale ripresa allora andiamo a vedere subito i giornali partiamo dal Corriere Adriatico l'edizione di Pesaro caporalato e sfruttamento arrestato un imprenditore c'è stato un blitz dei carabinieri in un'azienda di infissi a Pesaro trovati 11 lavoratori in nero e 13 irregolari e il l'imprenditore è stato appunto arrestato a centropagine invece il duello a distanza tra il governatore Ceriscioli e il suo predecessore ovvero spacca sul aeroporto sanzio non abbiamo fatto noi i debiti dice Ceriscioli che respinge le accuse di spacca sul disastro gestionale dell'aeroporto e poi tra le tante notizie che troverete all'interno anche quelle di sport la VL il basket a Pesaro Bertone ad alta fiducia la VL può crescere tanto la pagina di Fano invece con i servizi di base e neuropsichiatria infantile il sindaco seri punta i piedi solamente sulla viabilità ecco le controproposte del sindaco alla bozza di protocollo di Ceriscioli sull'ospedale Santa Croce nel testo si chiede di precisare livello e inquadramento del presidio e convenzioni della clinica privata sotto invece dopo l'incendio appartamenti di nuovo agibili l'amministratore parla di tempi accelerati per l'emergenza mentre l'assessore Barnesi Marina Barnesi che ha seguito l'assessore servizi sociali che ha seguito da subito l'evolversi della questione dopo l'incendio che è rivampato in una palazzina in via Bracci 22 nel quartiere di San Lazzaro gli ultimi problemi sono e riguardano soprattutto i muri che sono molto anneriti specialmente al piano terra e al primo piano le cantine l'illuminazione comune i citofoni per i quali ci vorrà qualche giorno in più poiché dei sei appartamenti tre sono di proprietà dell'Erap scrive in questo articolo dettagliato Stefano Mascioni questa mattina sul Corriere Adriatico poi invece sua pagina 42 si parla del sopralluogo di Fanese di Seri durante i lavori sul torrente Arzilla ci sono delle richieste da parte del comitato richieste per torrente spazi verdi e parcheggi il comitato Arzilla Viva presenta appunto queste richieste un quartiere che è senza le infrastrutture sollecitate regolari manutenzioni e una cassa di espansione contro l'inquinamento e poi sotto di taglio basso Tito presidente del Panathlon la carenza degli impianti l'analista finanziario succede all'avvocato Orciani aumentati nel biegno gli iscritti e anche gli impegni la cronaca da Senigallia uccide la madre e poi la veglia alla cesanella di Senigallia Gianluca Barucca colpisce in testa Graziella Pasquinelli di 73 anni l'ex moglie del commerciante dà l'allarme ai carabinieri lui è rimasto accanto al cadavere è successo in un appartamento al civico 3 di via Brandani alla cesanella una traversa della statale la vittima è una 73enne commerciante proprio come il figlio che invece ha 45 anni i due gestivano da molti anni un negozio di scarpe monomarca della Valle Verde in via Gherardi all'angolo di piazza Simoncelli in pieno centro storico a Senigallia il 45enne era in uno stato di forte depressione l'ho ammazzata io ha detto ma non volevo farlo questa è la cronaca da Senigallia andiamo sulla Valle del Cesano gesto eroico da valorizzare cent'anni fa c'erano 11 eroine domani la cerimonia con tutte le autorità l'impegno di Malarutta per la cerimonia sono passati cento anni dal 18 novembre 1917 quando 11 ragazze marottesi salvarono dalla furia del mare 104 marinai del pontone armato della marina militare Fadi Bruno che si era incagliato a largo della costa marottese mentre si trasferiva da Venezia ad Ancona dopo la disfatta di Caporetto un gesto eroico di cui quest'anno cade il centenario che verrà ricordato domani mattina alle 10 presso i giardini Fadi Bruno con una cerimonia e una rievocazione storica andiamo adesso sulla pagina invece 41 sempre della Valle del Cesano da Marotta un lutto Frattini Fabio Frattini morto in questa fotografia lo vedete 30 anni fa lo sferisterio in divisa da gioco con la divisa del gioco al bracciale con lui se ne vanno cultura e gentilezza scrive il Corriere questa mattina appassionato di identità e di storia locale praticò la politica e appunto il gioco del bracciale il cordoglio di comune e associazione storica e malarupta alle 15 il funerale a Marotta piove e andiamo adesso a Pesaro sempre dal Corriere Adriatico piove troppo e le palestre fanno acqua il maltempo ha evidenziato una serie di problemi con impianti costretti a chiudere per le infiltrazioni Belloni dice conosciamo le situazioni ma i primi interventi saranno a primavera e sulla nuova rotatoria invece il sindaco di Pesaro Matteo Ricci lancia un sondaggio o progetto per Largo Madonna di Loreto ritenuto uno dei crocevia più caotici e ad alto tasso di incidenti Degrado sono sei le aree dimenticate sempre dalla cronaca di Pesaro i Poru, piani di riqualificazione urbana dovevano lanciare l'urbanistica partecipata ma sono stati accantonati da Via Toscana, strada Fornace e Mancini dall'asta individua zone dismesse in cui i progetti sono rimasti al palo e poi ancora sul San Bartolo liberato, il San Bartolo è stato liberato da auto e moto domenica la prima edizione della stra panoramica per vivere una mattinata senza traffico nel parco l'obiettivo è farla diventare un appuntamento mensile a marzo Linus il noto DJ sarà il testimonial d'eccezione e andiamo adesso sempre sulla pagina di Pesaro la pagina 6 del Corriere Adriatico perché sulla questione della qualità della vita della malavita in particolare secondo il questore Antonio Lauriola che si appresta a lasciare Pesaro dopo tre anni come questore traccia un bilancio diciamo un bilancio del suo impegno e di come è cambiato il territorio e secondo il questore Pesaro per quanto riguarda la malavita agli anticorpi un bilancio su criticità cambiamenti e soluzioni tra le nuove emergenze la gestione dei migranti e il disagio sociale derivante dalla crisi la pagina di Urbino ora la regione ci toglie i fondi così perdiamo un vero tesoro la fondazione Romolo Murri contro Ancona a rischio il patrimonio archivistico e liberario e sempre dal Corriere da Tavuglia flash mob video e palloncini contro la violenza sulle donne un evento a cura del comune in via Battisti parteciperà anche Clara Rossi sorella di Valentino Rossi ho rapinato ma non ho violentato questa è la pagina sempre di Pesaro del Corriere parliamo degli stupri di Rimini è stato nuovamente sentito in carcere a Torino il maggiore dei tre fratelli marocchini accusati degli stupri di Rimini l'interrogatorio verteva su un abuso precedente commesso su una etiope si va ormai verso la chiusura delle indagini e sempre da Senigallia invece la violenza le violenze descritte nella tesi di laurea altre accuse contro il fidanzato padrone una presunta vittima non verbalizza il racconto è stato acquisito però quello che ha scritto nella sua tesi nella sua tesi dalla polizia per quanto riguarda invece la cronaca marchigiana sempre dal Corriere Airdorica Ceriscioli Gela Spacca i debiti non li abbiamo fatti noi dopo l'audizione dell'ex presidente in commissione d'inchiesta il governatore rimanda le accuse al mittente l'autovelox della follia non è in provincia di Pesaro è a Sant'Elpidio a mare ebbene c'è chi ha preso 73 multe se vi capita di andare da quelle parti ecco cercate di memorizzare questa fotografia e l'area alla zona perché appunto c'è questo rilevatore di velocità sulla mezzina che fa una strage di multe senza pietà apriamo il Carlino adesso con la tragedia di Mattioli Gianluca 50 anni arbitro internazionale morto in Spagna per un virus dopo un breve ricovero il titolo la tragedia di Matteo poi lavoratori in nero e mal pagati così l'artigiano spadroneggiava ai domiciliari un imprenditore quarantenne di case bruciate a nulla sono valse tre ispezioni da parte dei carabinieri dell'ufficio del lavoro il buio sopra via Branca pochi contributi Natale senza luminarie e sotto ospedale San Salvatore di Pesero troppi ricoveri si tornerà a letto bis andiamo allora nelle pagine interne la pagina di Fano del resto del Carlino apre con le ruspe a Villa Piccinetti demolita tutta la veranda ma sono pronta dice la titolare a ripartire e a rilanciare dicta della soprintendenza la patrota di case dice entro dicembre ricostruiremo tutto secondo i dettami la struttura sulla collina tra Pesero e Fano ospita matrimoni ed eventi l'altra pagina del resto del Carlino grande folle commozione così Cagli piange due amici cattedrale gremita per i due riti il ricordo del parroco ieri l'addio a Naccheri e a Vagnarelli mentre la casa di riposo comunale oggetto del dibattito a Fossombrone anziani nel Mirino andiamo sull'altra pagina invece per parlare a Urciano della voragine la voragine che per fortuna è stata chiusa dopo ormai diversi anni dopo due anni è questione di ore il sindaco dice grazie per la pazienza si circola sulla provinciale il mercato ritrova la sua piazza Garibaldi Sebastianelli appunto il sindaco dice sollevato i cittadini hanno dovuto sopportare disagi enormi per fortuna adesso tutto questo problema insomma è finito andiamo adesso sull'altra pagina del resto del Carlino due anni per mettersi in regola sulla questione degli arredi urbani Paolini l'assessore contestato dagli operatori e dai politici da tutti e due quindi bipartisan l'assessore chiarisce però il regolamento sugli arredi esterni in centro possibile presentare progetti diversi ma servirà il parere comunque della sovrintendenza adesso l'altra pagina quella di Pesaro pranzo con i poveri tutto esaurito più di 200 iscrizioni per domenica nella chiesa della Maddalena poi la cronaca in strada una coppia litiga colpi d'ombrello sotto il diluvio arriva il 113 è successo l'altra sera dopo le 22 in via Spada in centro appunto questa donna cinquantenne forse un po' ubriaca forse alticcia chiede aiuto citofonando ai residenti e poi cade un pannello nel bagno c'è stata un po' di paura per colpa delle infiltrazioni d'acqua nella scuola Carducci un pannello in fibra minerale si è staccato ieri mattina nel bagno delle bambine della scuola elementare Carducci adesso invece andiamo a pagina 9 per sempre per quanto riguarda il Carlino niente luminarie in via Branca e commercianti non pagano non contribuiscono alle spese della luminaria dunque il cuore della città non può essere però lasciato al buio al buio perché è penalizzante ci sono polemiche ma questo è un po' un po' ovunque quando si tratta di raccogliere soldi anche qua non è che sia un po' dappertutto Federica Golinelli la via va illuminata per le feste non può essere che non si voglia versare 80 euro di contributo per ogni esercizio e vabbè Urbino sempre dal Carlino apre la casa per anziani pronti i primi 20 posti annuncio del sindaco Gambini la struttura di via De Gasperi sarà attiva a giorni l'ultima pagina invece è quella del nuovo amico che è già in distribuzione sia agli abbonati ma anche nelle parrocchie e nell'edicole mai senza l'altro tra le numerose iniziative per la prima giornata mondiale dei poveri anche una mostra delle scuole e poi ci sono anche altre notizie all'interno del settimanale della diocesi di Pesaro Fano e Urbino da Pesaro prendi e mangia nel ricordo di Giorgio Giorgetti a Fano invece 20 anni di vita per il movimento degli Orionini e Urbino oratorio San Giovanni piccola sistina dello stile gotico noi ci fermiamo qui la rassegna stampa è finita grazie per averci seguito collaborate pure con la nostra redazione come fate ogni giorno e per questo non finiremo mai di ringraziarvi segnatevi il numero che avete appena visto in sovrimpressione segnatevelo sul vostro telefono nella vostra rubrica comunicateci comunicate con noi collaborate fate insieme a noi il telegiornale che come sempre andrà in onda questa sera alle 20.30 grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata grazie per averci seguito